Barbara D'Urso, nell'ultima puntata del 2018 di Domenica Live, è tornata ad ospitare Paola Caruso La showgirl, arrivata al suo ottavo mese di gravidanza, ha fatto nuove e scioccanti rivelazioni sul suo ex, nonché padre di suo figlio, Francesco Caserta Stando a quanto affermato dalla Caruso, Francesco avrebbe un altro figlio di 9 anni anni da lui non riconosciuto Sì, ha 28 anni e ha un bimbo di 9 anni che non ha mai riconosciuto, come sta facendo con me, ha raccontato la Caruso nel salotto di Domenica Live Di fronte a queste parole, Francesco Caserta ha deciso di non rimanere in silenzio Oggi, nel promo della nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso annuncia, infatti, che l'ex di Paola Caruso ha deciso di replicare alle sue forti dichiarazioni Le parole di Francesco, a difesa da quanto affermato dalla sua ex, saranno svelate in diretta nel salotto della D'Urso Le dichiarazioni shock di Paola Caruso.Paola Caruso, d'altronde, a Domenica Live ha non solo confermato che Francesco Caserta avrebbe un altro figlio, ma ha anche ammesso di averlo conosciuto L'ho anche visto, è il fratello di mio figlio, ha dichiarato commossa la Caruso Ci parlo con la madre di questo bambino. È tutto vero e il ragazzino lo sa che il padre è Francesco La madre mia ha anche detto che si vedono, il bambino è Francesco, ndr, ma che lui non l'ha mai riconosciuto Rivelazioni davvero inaspettate, che hanno lasciato il pubblico, e la stessa Barbara D'Urso che ha preferito dissociarsi dalle dichiarazioni della Caruso, senza parole A breve avremo ulteriori chiarimenti a riguardo Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like